Ehi, dimmi un po'. Stai per andare via di casa per la prima volta in vita tua pronto per cominciare una vita nuova da studente fuorisede? Forse hai paura, ma non temere. Tutto quello che ti serve è una guida rapida per prepararti alla tua nuova sfida. Una vera guida di sopravvivenza, come vedrai adesso. 1. Accetta l'idea di condividere le tue cose. Per risparmiarti tante snervanti seccature, accetta subito delle verità universali. La terra gira attorno al sole, all'inverno segue la primavera e… i tuoi coinquilini useranno sempre le tue cose. Molto spesso senza nemmeno chiederti il permesso. Ma vedila così. Più saprai condividere, più potrai prendere in prestito a tua volta. 2. Proteggi la tua tazza preferita. Se c'è una cosa che proprio non vorrai mai condividere con nessuno, è la tua tazza preferita per la colazione. O il termos, o chissà. Ma se nemmeno la buona educazione fermerà le manacce dei tuoi coinquilini, allora proteggi il tuo sacro graal con un bel lucchetto. Potresti proprio legare la tazza allo scolapiatti. Et voilà! Conserverai gelosamente la chiave, solo tu! E ti gusterai il tuo caffè mattutino con ancora più gioia. 3. Condividi le spese per il bucato. A seconda di come capiterai, potresti dover usare le lavatrici a gettoni fuori casa. A meno che tu non parta con abbastanza cambi da durarti fino alle prossime vacanze di Natale, intendo. Ma se dovrai pagare per il bucato, propone ai tuoi coinquilini di dividere le spese a turno. Risparmierete tutti e sarà anche un bel modo di fare squadra. Non c'è niente che cementi meglio l'amicizia dell'attesa mentre guardate i vostri calzini nella centrifuga. 4. Usa l'asciugacapelli più che puoi. A volte per fare il bucato non avrai tempo di attendere il tuo turno. Hai l'esame di storia dell'arte tra 20 minuti, ma scopri che non hai più calzini puliti. Presto fatto, lavali a mano, appendili da qualche parte e dacci dentro con l'asciugacapelli. Ed ecco qui. Calzini puliti asciutti nemmeno 3 minuti. 5. Niente ferro da stiro? No problem. Perfetto, ma se scopri anche di avere tutti i vestiti sgualciti? Perché intendiamoci, mica li piegherai come si deve, li butterai in giro per la tua stanza, lo sai anche tu. Se non hai un ferro da stiro, ti basterà versare un po' di acqua calda sulla camicia e appenderla ad asciugare. Magari appendila vicino a te mentre fai una doccia calda. Oh, e a tal proposito... 6. Usa sempre le ciabatte da doccia. Vivi insieme ad altre persone e avete tutti un solo bagno, perciò anche una sola cabina doccia. È obbligatorio perciò che tu usi le ciabatte, a meno che tu non voglia beccarti qualche fungo ai piedi e beh... 7. Tieni d'occhio le offerte speciali per gli studenti. Insomma, non è che non devi dormirci di notte, ma capisci, non fartele sfuggire. La vita da studente fuorisede e grama, tiri avanti a take away da ristoranti cinesi, perciò ogni scusa è buona per risparmiare. Vedrai che non ti mancheranno le occasioni. Le università stesse a volte organizzano eventi per gli studenti per mangiare e bere in compagnia. Ma non ti parlo soltanto di cibo e bevande. Quasi tutti musei, cinema e quant'altro offrono sconti e tariffe speciali per gli studenti. 8. Due parole. Roba gratis. Una delle prime cose che dovrai fare appena ti sistemerai nella nuova casa sarà individuare subito la roba gratis che puoi far tua. Un sacco di studenti si lasciano dietro dei veri e propri tesori quando cambiano casa. Potrai trovare di tutto, stovigli e piatti, persino sfere da discoteca. Tantissimi poi cambiano appartamento senza portarsi dietro i libri che hanno già letto. Magari anche dei libri di testo che ti serviranno per i tuoi corsi. Naturalmente troverai anche la dispensa piena di cibi in scatola. Fai solo attenzione alla data di scadenza. 9. Partecipa a quante più attività ti è possibile. La vita da studente universitario è piena di eventi sociali. Non fare perciò l'eremita. Esci con i tuoi nuovi coinquilini e compagni di corso. Più sarai attivo socialmente, più avrai modo di incontrare gente nuova, fare nuove amicizie e naturalmente, come dire, divertirti a più non posso. Voglio dire, quando altro pensi che ti ricapiterà l'occasione di sfoggiare il tuo talento nel suonare il controfagotto. Mai più probabilmente. 10. Tieniti aggiornato con la cultura pop. Di un po', non vorrai mica essere tu l'unica persona che non ascolta Billie Eilish e non cita ogni due minuti il trono di sfade, vero? A proposito, se hai dei consigli su serie e dischi da segnalare alle altre matricole, scrivi tutto nei commenti qui sotto. Ricorda sempre, gli artisti pop, film e le serie del momento sono sempre un infallibile argomento di conversazione. 11. Passa più tempo che puoi con i tuoi coinquilini. Eh già, i tuoi strambi coinquilini adesso sono come una nuova famiglia. Per non partire col piede sbagliato, assicurati di passare del tempo con loro, anche a costo di sacrificare qualche tuo hobby. Su come passare il tempo con loro avrai l'imbarazzo della scelta. Unitevi allo stesso gruppo di studio, fate la serata monopoli, guardate film, fate commissioni, non c'è limite alle cose che potete fare insieme. Dovrete convivere per un bel po' di tempo, perciò sarà meglio fare amicizia, non credi? 12. Fatti un cinema in casa. Andare al cinema può costarti un occhio della testa, malgrado i fantastici sconti per studenti. Se ci andrai troppo spesso, ben presto ti ritroverai al verde. Perciò porta il divertimento del cinema a casa, costruendoti un proiettore fai da te. Pratica un foro nella scatola grande quanto quella lente di ingrandimento e incastrala dentro. Metti un pezzettino di cartone come divisorio e inserisci anche il tuo smartphone. A quel punto potrai controllare il tuo proiettore casalingo regolando la distanza tra lo smartphone e la lente per mettere a fuoco l'immagine. Ora si spengano le luci e buona visione a te e i tuoi coinquilini. 13. Impara assolutamente a cucinare. Se esistessero due sole parole per descrivere la vita da fuorisede sarebbero queste. Si capisce, economico e conveniente, ma nutrirti di cibo preso fuori ad ogni pasto svuoterai il tuo portafogli e allargerai il tuo girovita. Per non mettere su i classici 10 kg delle matricole e risparmiare un bel po' di soldi, impara a cucinare. Lì in casa hai tutto ciò che ti serve. C'è la cucina apposta, no? Solo fai attenzione a non far partire l'allarme antincendio alle 4 di notte. 14. Tieni puliti i piatti senza nemmeno lavarli. Cucinare in casa significa piatti da lavare, giusto? Non necessariamente. Prova a mettere degli involucri di plastica nel tuo piatto o nella ciotola. Una volta finito di mangiare potrai gettar via tutto, lasciando il piatto lindo e pulito. O, nel caso in cui non ci fossimo capiti, quando convivi con altri in casa devi tenere tutto molto pulito. 15. Trova modi per ritagliarti un po' di tempo per te. La vita sociale va bene, ma a volte è stanca stare 7 giorni su 7 insieme ad altre persone. È normalissimo. Ma anziché mettere il muso e cominciare a litigare con loro, prenditi un po' di tempo per stare per conto tuo. Di che vuoi dormire o che devi studiare. Oppure mettiti le cuffie in modo che tutti capiscano che per il momento non vuoi essere disturbato. Sono segnali forti e chiari. Una bella ricarica così e sarai di nuovo prontissimo per fare vita sociale in men che non si dica. 16. Non c'è niente di male a dire no. È perfettamente accettabile rifiutare educatamente l'ennesimo invito ad una festa. Soprattutto se sono tutti nella stessa settimana, se tutto quello che vuoi è rilassarti o studiare. Studiare? Certo! Va bene anche dire di no se uno dei tuoi coinquilini ti chiede dei soldi in prestito per la terza volta di fila. E ancora, non ti ha restituito nemmeno un centesimo. Non avere paura di sembrare egoista ogni tanto. Tra l'altro imparare a dire no ti servirà non poco anche nella vita adulta. Se non imparerai, tutti si approfitteranno di te. Ricordatelo. 17. Fai amicizia con lo staff universitario. Se abiterai in uno studentato, ricorda di dire almeno ciao al personale che lavora lì ogni giorno. Altrimenti ti perderai un sacco di opportunità. Insomma, in portineria non c'è un secondino che ti sorveglia per il coprifuoco. E alla mensa essere amichevole col personale significherà magari una porzione in più di bistecca. Insomma, si gentile col personale. Magari fai anche due chiacchiere con loro se ti capita. 18. Trova i posti in cui puoi nascondere le tue cose. Se nel tuo studentato ci sono regole precise, ad esempio sull'uso degli asciugacapelli o del ferro d'astino in stanza, farei bene a trovare dei nascondigli nel caso qualcuno venga a controllare. Non si sa mai. Ti ricordi il film Le ali della libertà? Ecco, magari dietro il poster? Perfetto! Anche se penso che piuttosto dovrai limitarti a nascondere le tue merendine dalle grinfie del tuo compagno a distanza. 19. Impara a dormire anche quando c'è sempre chiasso. Questo è forse il consiglio più importante che dovrai seguire. Dovunque ti troverai da fuori sede è probabile che sarai sempre circondato da un grande chiasso. Se non ti abituerai, finirai col passare delle lunghe notti insonni. Per quanto possa sembrarti difficile, cerca di isolare la tua mente da tutto il rumore e anche dai tuoi piani di vendetta. Immagina di trovarti in qualche luogo calmo e rilassante, tipo una spiaggia tropicale. Usa magari delle app per la meditazione. Ti aiuteranno a circondarti di rumori di fondo rilassanti come le onde dell'oceano. Oppure dai fondo alle tue energie durante la giornata, fai palestra, passeggia sotto il sole e vedrai che di notte dormirai come un sasso in qualsiasi circostanza. Se però niente dovesse funzionare, i cari vecchi tappi per le orecchie risolveranno il tuo problema. Insomma, parti con spirito positivo e vedrai che i tuoi nuovi coinquilini ti regaleranno esperienze che ricorderai con affetto per il resto della vita. Non ti so dire quali. Ma credimi, non le dimenticherai mai. Se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti un bel like al video e condividilo con gli amici. Ecco altri video che abbiamo qui pronti per te. Scegli quello a destra o a sinistra e resta con noi. In fondo siamo il lato positivo.